si può sapere che vuoi? buongiorno! buongiorno! buongiorno questo cazzo! ma buongiorno! ci è venuto lì la scema a chiamarlo! com'è? fa! 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 per caso ti tremo il braccio? guarda che ti guarisca la gamba! ti sono azzampata la gamba! vai in bucchetto di qui! oggi sono felice! sono felice fammi lanciare il polpelle! guarda che c'è! ma lei non ti dico io! la tangente! guarda quanto è contento! guarda quanto è contento quando gli dè la tangente! non c'è il scherocito! questo pennezzo che è? che sta a fare? fermate! vuole in calcio un dolottinco? no sono fortunato! mi puoi toccare! ma che è? no! vediamo! Grazie a tutti.